che bel cagnolino presa! che stai facendo? lasciaci stare accalmati sono una detective specialista nella ricerca di animali sì, questo cane si è perso ora lo riconosco brava, buona fortuna fermo, devo lasciarlo da qualche parte finché non arrivano i proprietari vedi un cartello hotel per animali da qualche parte? no ciao che succede? tienilo nel tuo hotel tornerò presto cosa? quale hotel? non c'è proprio nessun hotel qui ma da dove viene? immagino che l'abbia scritto tu hai un posto dove posso lasciare un gatto? abbiamo appena aperto andrà tutto a meraviglia fai del tuo meglio l'hotel per animali di Andy è aperto benvenuti nel mio hotel reception zona relax e camere d'albergo è vero dovrei fare una stanza per te dovresti? non so proprio da dove iniziare corne ho bisogno del tuo aiuto sono un po' impegnata ora è urgente ho aperto un hotel per animali fico e che cosa ti serve? aiutami a creare una stanza per un gatto e darò una parte dei soldi dell'hotel agli animali a fare fatto cominciamo con il pavimento fico sarà un bel tiragraffi fantastico fantastico disegna un modello e ritaglialo gatto addormentato così va meglio e un cuscino? è così morbido penso che ti piacerà spero che finiate presto stiamo facendo del nostro meglio io vorrei dormire con chi stai parlando? e con te stiamo facendo del nostro meglio uniamo i pezzi questo sarà un giocattolo elegante e accendiamo la luce con uno sembra vuoto la tua stanza è pronta benvenuto mi piace qui che cuscino morbido ho anche un tiragraffi e il servizio? arrivo buon appetito grazie è delizioso sembra fantastico sì andiamo avanti penso che tu possa andare avanti da solo hai promesso di aiutarmi aiutami a fare una stanza per un gatto e darò una parte dei soldi dell'hotel agli animali sono così felice che anche tu abbia deciso di aiutare gli animali sono orgogliosa di te grazie benvenuta all'hotel per animali di Andy il nome è comune ma è carino mi piace l'hai costruita da solo? certo l'ho fatto io stesso un cane un cane chi l'ha fatto entrare? si è spaventato è il gatto del mio amico dovremmo trovarlo posso aiutarvi se mi pagate? scherzavo scusate sono stata io a portare il cane chi diavolo è? Summer ricerca animali una tua amica? si no non siamo amici che ognuno si attenga alla propria opinione lo troverai ma sa davvero cosa sta facendo? non ne ho idea ci sono davvero? ho sentito che doveva essere qui hai cercato delle patatine? eh sì e il gatto si nasconde dietro lo stand come lo sapevi? l'ho vista andare lì sei un genio grazie è divertente ma devo andare dopo l'evento con un cane le manci se le scorda posso lasciarlo ora? devo preparare una stanza ti aiuto io? no ma certo lavorerò sotto copertura ci siamo ok grazie ma lo farò da solo devono essere qui sono stati utili cos'è questo? è quello che mi serve cosa non posso essere utile? puoi pulire il pavimento capisco è un test usiamo l'argilla leggera per creare una decorazione usa la pulizia dei pavimenti per dirmi qualcosa ah certo taglierò lo spolverino inserisco l'imbottitura e faccio un viso carino Andy grazie il tuo compito mi ha aiutata cosa hai fatto con il mocio? è piuttosto bello fico fico ehi calmati cos'altro posso fare? userò le pantofole sì sì cosa? no vado a riordinare da dove vengono gli ossi? ho pensato che sarebbe stato bello decorare la stanza per cani è fatta bellissimi poster wow wow così tanti giocattoli ce l'ho per me? credo che gli piazza sono stata felice di aiutare ci ha preso la mano ferma e che succede? qualcuno ha rovinato le mie cose sei una detective ti assumo non preoccuparti troveremo il criminale questo è un ratto hai deciso che era un topo a causa dei buchi? no è seduto sulla tua spalla oh no l'abbiamo perso facciamogli una stanza gli prepariamo anche la cena? ottima idea ok proviamoci lasciamolo correre nella stanza hai elaborato un progetto io credo sia meglio improvvisare come desideri usiamo le piastrelle di legno per il pavimento mettiamo la camera da letto al primo piano avrà un materasso morbido con una piccola coperta e piccoli cuscini ai topi piace dormire in modo che nessuno li veda sarà comodo fare il bagno in una vasca del genere e c'è il posto per leggere un libro hai fatto una toilette per il topo? beh dovremmo renderlo indipendente chi legge i libri in bagno? ops torno presto io intanto farò un bel tavolo ottimo lavoro aggiungiamo un distributore d'acqua dove lo prendiamo? ordiniamolo nessuno lo consegnerà grazie che carino un piccolo tappetino lo renderà più accogliente fatto e ora cosa? dobbiamo nasconderci sei sicura che sia utile? certo guarda è meglio della mia casa precedente pensavo che avessero fatto una trappola per me suppongo che resterò qui per un po' di tempo è fantastico che gli sia piaciuta davvero? ha rovinato le mie cose e le farò pagare benvenuti ha bisogno di una casa oh sei tu? sei tu hai delle stanze per conigli? no ma hai promesso di aiutare gli animali? faremo di tutto ciao ciao io sono Courtney e tu? lavoro nell'hotel di Andy sotto copertura in realtà sono una detective Summer piacere di conoscerti grazie per aver adottato questo cucciolo grazie Courtney non è niente ti troveremo una famiglia e nel frattempo rimani qui Andy Andy che sta facendo? crede di poter parlare con gli animali forte a proposito anch'io posso capire qualcosa un'altra pazzoide sei proprio a tuo agio ciao ciao beh Summer hai un'opportunità unica di vedermi al lavoro guarda e impara sta tenendo tutto sotto controllo l'ho visto? lo vedo qui non ci sta che ne dici di questo? dovrebbe essere fissato aggiungine di più piccoli per renderlo più grazioso ma che fai? voglio coltivare l'erba ci vorrà molto tempo l'ho annaffiata con un'acqua speciale per la crescita chiudi gli occhi oh wow incredibile mettiti comodo cosa c'è qui da mangiare? dice che le piace questo posto davvero? e per il pagamento? ti ha detto qualcosa? Andy chiede se hai dei soldi ci sono così tante prelibatezze qui ha detto che ti farà un assegno non vedo l'ora sembra che gli piaccia molto ciao ragazzi ho altre due stanze libere nel mio hotel secondo voi chi può entrarci? un elefante? un cocodrillo? una tartaruga? o forse Summer? o Jade? scrivetelo qui sotto ciao ciao parla la detective Summer cosa? arrivo ma che succede? oh mio dio cosa pensi che abbia spaventato Andy?